Il mio primo campionato è molto importante per la mia crescita e sono molto contento di essere a Modena perché è una bella sfida, abbiamo degli obiettivi importanti che non saranno facili da raggiungere ma settimana dopo settimana dovremo dare sempre di più e fare sempre il massimo per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Modena è sicuramente una piazza importante che ha grandi ambizioni e noi dobbiamo cercare di dare valore a quello che ci dà il nostro tifo e la città. Il gruppo è un gruppo fantastico di tutti i bravi ragazzi, simpatici che riescono a metterti subito nel gruppo senza troppa diffidenza e la città mi trovo bene, anche le persone che incontri per la strada sono sempre gentili e si vede che il calcio a Modena è importante. Diciamo che la mia storia nasce così che quando ero piccolo mio nonno, che anche lui ha giocato a pallone, mi ha sempre detto che se volevo giocare a pallone da grande avrei dovuto imparare a giocare con tutti e due i piedi e quindi da piccolo mi spostavo a sinistra e poi da lì è rimasto che mi è sempre piaciuto di più giocare a sinistra per avere doppia opzione, diciamo. Sono venuto da tifoso quando ero piccolo per fare il mio cugino e anche il Modena e ora torno da giocatore sperando di poter far godere qualche tifoso sugli spalti. No, noi siamo pronti, siamo carichi, ovviamente è la prima partita dove conta il risultato e dovremo dare il massimo per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo.